Pino Musolino, commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale. Musolino, cos'è cambiato fra essere presidente e commissario straordinario? Gli stessi pensieri, le stesse responsabilità, il 20% di retribuzioni in meno. Questo è cambiato. Una cosa, commissario, quando ci siamo sentiti nell'ultimo periodo si è impegnato tantissimo per cercare di pagare con i proventi dell'autorità di sistema portuale che ha chiuso un bilancio faraonico, anche i portuali di Venezia, di Chioggia, le aziende, le strutture e i lavoratori. È andata così, mi sembra. È andata così, sì, nel senso che proprio ieri io ho fatto il provvedimento pur dalle ferie perché comunque abbiamo lavorato con i miei uffici che ringrazio a pancia bassa perché poi nei momenti di difficoltà non ci sono pause che tengono. Bisognava dare delle risposte, delle risposte immediate soprattutto alle famiglie degli articoli 17, delle compagnie lavoratori portuali. Ieri abbiamo fatto il primo anticipo che è già stato versato nei conti delle due società, quindi non stiamo parlando di provvedimenti teorici, stiamo parlando di un trasferimento reale di risorse che ha anticipato una parte dei fondi che sono previsti per gli articoli 17 dal rilancio Italia fondamentalmente e quindi abbiamo dato la possibilità di affrontare questa fase con maggiore serenità e con maggiore operatività a entrambi gli articoli 17, sia quello di Venezia che quello di Chioggia. Chiaramente avendo il bilancio ancora nelle more dell'approvazione in itinere non siamo riusciti a fare l'intero trasferimento però abbiamo cercato di fare il più possibile attraverso delle soluzioni di natura tecnica e abbiamo cercato di fare il possibile per poter anticipare appunto dei fondi che sanificassero una situazione per le due compagnie lavoratori portuali per poi andare a saldo di tutto il dovuto per il 2020 al momento nel quale il bilancio verrà definitivamente liberato. Intanto non ho accennato che abbiamo preso il commissario Musolino in rientro dall'Isola d'Elba, non ce lo siamo fatto scappare a Livorno naturalmente. Ecco, commissario, una cosa ora, quanto può durare un commissariamento se tutti i bilanci sono stati approvati anche dal Ministero? Dura il tempo che viene deciso dal Governo nazionale a cui io sottosto per ogni questione, il superiore Ministero vigilante. E' evidente che adesso io credo verranno riaperte le call per le nuove nomine di tutti i presidenti perché voi sapete che tra novembre e luglio dell'anno prossimo scadono praticamente 15 autorità su 16 che solo quella dello stretto con Mario Mega è stata fatta di recente e quindi c'è il naturale avvicendamento alla fine dei quadrienni dei presidenti. Io dovevo scadere a marzo, probabilmente scadrò prima e quanto non più presidente ma gestione commissariale probabilmente rientreremo, credo, nella prima ondata di call che a breve il Ministero proporrà e credo che legittimamente proporò la mia candidatura per più di un porto come è stato fatto in precedenza. Credo, se non ricordo male, nel 2016 si poteva esprimere quattro preferenze per quattro porti e io penso che i risultati del lavoro sono stati comunque prodotti e di avere il diritto almeno a provarci. Commissario, chiudiamo con la notizia che interessa proprio il porto di Venezia, il porto di Chioggia, di traffici. Venezia sta soffrendo, come tutti i porti italiani per quanto riguarda il settore del traffico e commercio ma soprattutto ha sofferto tantissimo, forse più di altri, per il settore crociere. A che punto siamo? Siamo a un punto che in qualche modo, se vuole, mi preoccupa perché noi eravamo pronti a far ripartire le crociere già dal 15 di agosto. Poi siamo stati convocati al tavolo provinciale del COSP, dell'Ordine Pubblico, dal prefetto, il quale ci ha in qualche modo caldamente invitato a non far ripartire le crociere perché su indicazione particolarmente degli enti locali c'è l'altimore che far ripartire le crociere avrebbe potuto far ripartire anche la questione delle proteste. Io credo che questo sia un anno straordinario, sia un anno particolarmente difficile, sia un anno particolarmente difficile per tutte le famiglie. Noi abbiamo un terminal in questo momento che funziona e funziona perfettamente, teoricamente. È vero che ci siamo impegnati, io per primo, insomma, già a partire dal 2017, a spostare il traffico dal canale della Giudecca verso altre realtà, ma in questo momento l'emergenza reale è quella di dare una retribuzione e la possibilità di lavorare alle 4.500 famiglie che sono impegnate nel comparto e che a breve perderanno tutti gli aiuti degli ammortizzatori sociali dalla CIG alla NASPI. E quindi io ritenevo e ritengo tuttora che far arrivare quel massimo di 10 navi in totale, quindi una nave alla settimana per 10 settimane, sia e fosse sia una priorità assoluta del nostro territorio che al tempo stesso e contemporaneamente cominceremo a lavorare ovviamente assieme al Governo nazionale per far partire la soluzione Marghera, far partire la soluzione alternativa, ma che la risposta reale alle persone in carne ed ossa che hanno bisogno di avere qualche certezza fosse quella di far ripartire le crociere. Io mi auguro che assieme appunto al Prefetto e agli enti locali si possa trovare una quadra per non più ad agosto ma a settembre e far ripartire questo ultimo scampolo di stagione e dare quelle garanzie ai portabagagli, ai runner, ai ragazzi che vanno a fare i turni straordinari, a tutti quelli che sono coinvolti nella filiera delle crociere, perché in questo momento io ritengo da padre se volete, non solo da amministratore pubblico, da cittadino, che la priorità di tutte le priorità sia garantire la sana e buona occupazione ovunque sia possibile a tutti i nostri concittadini per uscire bene da questa crisi e poi pianificare il futuro.